Dal commento sui salmi di Sant'Agostino Vescovo Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele. Ecco che il Signore edifica Gerusalemme e raccoglie il suo popolo disperso. Il popolo di Gerusalemme è infatti il popolo di Israele. Vi è una Gerusalemme eterna nei cieli, di cui sono i cittadini anche gli angeli. Tutti i suoi cittadini godono della visione di Dio. In quella città grande, spaziose e celeste, ciò che contemplano è Dio stesso. Ma noi pellegriniamo lontani da quella città. Scacciati per il peccato non vi potremmo restare e, aggravati dalla nostra condizione mortale, non possiamo ritornarvi. Dio guardò il nostro vagabondare e colui che edifica Gerusalemme ricostruì la parte rovinata. Come la ricostruì? Radunando i dispersi di Israele. Ne cadde infatti una parte e divenne esule. Dio la guardò con misericordia e andò alla ricerca di coloro che non lo cercavano. Come li cercò? Chi mandò per la nostra schiavitù? Mandò il Redentore, secondo il detto dell'Apostolo. Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. mandò dunque il figlio suo a redimerci dalla nostra schiavitù. Egli disse, porta con te un sacco col prezzo da pagare per gli schiavi. Egli dunque si rivestì della carne mortale in cui stava il sangue che effuso ci ha redenti. Con tale sangue ha radunato i dispersi di Israele. E se un giorno egli raccolse i dispersi, come dobbiamo far di tutto perché anche ora siamo raccolti? Se allora furono raccolti per divenire nelle mani dell'artefice parte dell'edificio, come non si devono raccogliere quelli che per insofferenza caddero nelle mani del costruttore? Il Signore ricostruisce Gerusalemme. Ecco chi lodiamo. Ecco colui al quale dobbiamo la lode per tutta la nostra vita. Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele. Come li raduna? Che fa per raccoglierli. Risana i cuori affranti, dice il Salmo. Ecco come sono raccolti i dispersi di Israele. Vengono risanati coloro che hanno il cuore contrito e umiliato, quelli che riconoscono le proprie colpe e si castigano da sé medesimi, che si giudicano con severità per rendersi capaci di sperimentare la sua misericordia. Questi egli risana, ma saranno perfettamente sani quando sarà terminato il loro stato mortale, quando questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale si sarà vestito di immortalità. Quando più nessuna debolezza della carne ci molesterà, non solo al consenso ma neanche alla suggestione del male. Dice l'Apostolo, il corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vita a causa della giustificazione. E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Questo pegno ha dunque ricevuto il nostro spirito, affinché incominciamo a servire Dio nella fede e per la fede a essere chiamati giusti, poiché il mio giusto vivrà mediante la fede. Tutto quel che ora ci ostacola e ci resiste proviene dalla mortalità della carne. Anche questa sarà risanata, dice infatti. Dio darà vita anche ai nostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Per questo ce lo ha dato impegno per portare a compimento la sua promessa, che accadrà dunque in questa vita in cui siamo testimoni ma non ancora possessori. Come avviene la cura? Risana i cuori affranti, ma la sanità perfetta avverrà nel tempo che abbiamo detto. E ora che cosa fa? Fascia le loro ferite. Colui che cura i cuori affranti, la cui sanità perfetta si avrà nella risurrezione dei giusti, tiene saldi ora i nostri propositi.